Il Bologna non aveva mai vinto a Verona ma oggi sfatando la consolidata tradizione ha avuto la meglio con un secco 2 a 0 che lo lancia in vetta alla classifica. Per il Verona la conferma dei vistosi limiti fatti già vedere domenica scorsa nell'esordio con il Milan e dire che a mettersi in evidenza in avvio di partite era stato proprio il Verona con questo colpo di testa di De Vitis facile preda comunque di Antonioli. Al ventunesimo intervento decisivo di Vanoli su Kolivanov per l'arbitro però è tutto normale. Il Bologna si fa più incisivo ancora Kolivanov su calcio di punizione e Bresciani di testa mettono alla prova il portiere Gregori. Ulivieri l'allenatore del Bologna capisce che è il momento giusto e al quarantaduesimo Kolivanov gli dà ragione trovando un bellissimo tiro da fuori area che si insacca sotto la traversa di un Gregori apparso sorpreso. Occasione per il Verona nei minuti di recupero punizione di Orlandini Baroni alla palla del pareggio ma tira incredibilmente fuori. Nella ripresa il Bologna cerca di controllare la partita il Verona non è capace di aggredire anzi al cinquantasettesimo Fontolan conclude un'azione personale con un delizioso tiro che va fuori di poco. Lo stesso Fontolan poco dopo lascia il campo per Nervo una mossa che si rivela decisiva perché il nuovo entrato con un incredibile pallonetto batte nuovamente Gregori fissando il risultato sul 2 a 0.